Il comune di Ragusa, a favore del diritto allo studio per i residenti delle contrade, borgate e frazioni, si assumerà interamente l'onere del trasporto scolastico extraurbano e del servizio di scuolabus senza quindi richiedere nessuna contribuzione alle famiglie e agli studenti stessi. Una tariffa pari invece a 60 euro al mese sarà per i non residenti beneficiari del servizio di scuolabus, salvo appositi accordi con i comuni di residenza dei beneficiari del servizio. E' quanto comunicato dal comune di Ragusa e discusso ieri sera durante il consiglio comunale, quando l'assessore ai servizi sociali e politiche per la famiglia e sviluppo economico Salvatore Martorana ha presentato la delibera della giunta che modifica un precedente provvedimento rendendo prioritario e gratuito il servizio di trasporto scolastico per gli studenti extraurbani. A per il mio era dovuto in quanto noi dobbiamo garantire il diritto allo studio perché dare la possibilità a tutti di poter studiare senza sopportare il peso del biglietto per il trasporto significa garantire lo studio di tutti i cittadini ragusani. Mi riferisco soprattutto a tutte le famiglie che sono residenti a Marina di Ragusa, San Giacomo e in tutte le contrade che hanno ragazzi che sono costretti a prendere il pullman extraurbano e non quelli del comune e che hanno pagato dei ticket negli altri anni. Molta soddisfazione anche da parte del consigliere comunale del PD Mario Chiavola che più volte in passato aveva chiesto la riduzione dei costi per il trasporto degli studenti pendolari. L'assessore Martorana ha anche spiegato che le famiglie che anticiperanno le due settimane di settembre in attesa del servizio gratuito dal 1 ottobre avranno poi il rimborso della spesa.